Abbiamo già parlato in un precedente video dell'universo di Fallout e in particolar modo della storia di tutte le altre nazioni accennate nei diversi titoli dal primo Fallout fino all'ultimo, in base alle testimonianze riportate in diari, olonastri, mappe e quant'altro. Eppure però, essendo la saga di Fallout ambientata prevalentemente negli Stati Uniti post-Bellici, ovvero nel mondo post-apocalittico in seguito alla Grande Guerra del 2077, in questo video ci concentreremo dunque sulla ricostruzione della società prebellica statunitense. Attenzione però, non aspettatevi un video in cui si parlà solo ed esclusivamente di eventi storici in successione, anche perché il portale di YouTube ne è pieno. In questo video parleremo invece dei progressi scientifici, sociali, medici e quant'altro portati avanti nel continente americano prima della guerra per capire bene come funzionava e come si articolava la società dell'epoca. Solo immergendoci appieno infatti nel vissuto dell'epoca potremmo infatti capire le motivazioni di una guerra così grande con la Cina e il clima tra tensione ed entusiasmo che si respirava per tutto il ventunesimo secolo. Dobbiamo sapere che gli Stati Uniti prebellici in Fallout erano in realtà molto diversi rispetto alle nostre passate e presenti annate. Anzitutto non si trattava più di un'unione di stati come appare invece nel nostro universo, bensì di un'unione di Commonwealth, ovvero un agglomerato di più stati uniti tra di loro e racchiusi in grandi regioni. Tale suddivisione venne decisa proprio dopo la Seconda Guerra Mondiale, grazie anche ad un atto legislativo che cambiò a tutti gli effetti la bandiera americana, non più composta da una stella per stato, bensì da 13 stelle raffiguranti i 13 Commonwealth e una grande centrale a raffigurare il governo al di sopra di tutti. L'obiettivo era chiaro, si sperava che la nuova divisione amministrativa del paese avrebbe contribuito a creare norme e leggi che facessero beneficiare gli stati con comuni preoccupazioni regionali. Un'unione dei diversi stati federali avrebbe quindi aiutato il governo centrale ad essere più efficiente, meno corrotto e più pronto a rispondere al meglio alle sfide poste dalla minaccia comunista, in pieno stile guerra fredda. In realtà sappiamo che tale sistema creerà nel tempo ancora più conflitti politici tra governo centrale e singoli Commonwealth, i quali fecero di tutto per promuovere i propri interessi, a discapito anche degli altri stati. Allo stesso modo il governo federale degli Stati Uniti non maturò negli anni e divenne estremamente corrotto, in costante disaccordo con i singoli Commonwealth. Le agenzie del governo federale che più di tutti gestivano il tutto erano due, il Dipartimento di Guerra e il Dipartimento della Difesa, entrambi responsabili dello sviluppo di numerose ricerche anzitutto su progetti militari top secret, il loro obiettivo numero uno. Come mai però nell'universo di Fallout e in particolare negli Stati Uniti prebellici la ricerca di armi sempre più sofisticate divenne ancora più importante? Tutto questo può essere spiegato grazie ad un'unica grande causa, la guerra fredda iniziata a partire dal 1945 con la divisione del mondo in sfere di influenze politiche in Fallout non si è mai fermata, ma anzi ha accelerato costantemente nel tempo, fino alla guerra nucleare totale. Nel nostro universo infatti, in seguito alla crisi dei missili di Cuba e alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, il mondo diviso in due grandi blocchi scomparirà gradualmente a favore di un mondo multipolare, basato cioè non solo sull'egemonia e sullo scontro tra due grandi potenze, bensì tra molti altri interpreti mondiali, dalla Cina all'India, dall'Unione Europea agli Stati Arabi. Nell'universo di Fallout non nacquero dunque trattati di non proliferazione nucleare, fasi di distensione internazionale, fenomeni tipici di globalizzazione di massa, così come la intendiamo oggi manifestazioni di pace e di tutela nei confronti dell'ambiente, e neanche la tecnologia era minimamente paragonabile a quella dei nostri tempi. Nel mondo di Fallout infatti è un errore affermare che nulla cambiò rispetto agli anni della prima guerra fredda, ovvero del periodo che va più o meno dal 1945 al 1962 con la fase della prima distensione in seguito alla sventata crisi dei missili di Cuba. Il mondo di Fallout e in particolare gli Stati Uniti, la nazione più evoluta, non si presentano a noi come un mondo statico e povero. Persino la tecnologia fece passi da gigante a partire dal settore della robotica, privilegiata in particolar modo negli stessi Stati Uniti, i quali furono in grado di creare robot intelligenti e senzienti capaci di aiutare e spesso sostituire gli esseri umani in diverse mansioni, da quelle domestiche fino a quelle lavorative e anche belliche. Ma non solo questo campo era uno dei più evoluti. Pensiamo ad esempio al campo militare, in cui la tecnologia statunitense riuscì ad emergere grazie alla creazione dell'armatura atomica, un vero e proprio esoscheletro vagamente simile alle corazze dei cavalieri medievali, capace di resistere ad ogni tipo di arma da fuoco senza alcun problema. Oppure pensiamo alle armi laser, a quelle al plasma o persino ai nuclei di fusione per alimentare le stesse armature atomiche ed interi complessi industriali. Ed infine pensiamo al Fatman, un vero e proprio lanciatore personale di mini testate nucleari capace di far saltare in aria interi quartieri. Insomma, per alcuni aspetti il mondo di Fallout aveva compiuto enormi passi in avanti anche rispetto al mondo in cui noi viviamo, ovviamente in campo bellico. Eppure però qualcosa che ci ricorda gli anni della Guerra Fredda è rimasto ancora. Molti di voi infatti avranno notato più volte le famose tv dal tubo catodico, il suono continuo di radio e musiche vintage, l'utilizzo di automobili in stile tipico anni 50 e anni 60 e la mancanza di computer, telefoni cellulari e internet. Procediamo con ordine. Il mondo di Fallout può essere definito un mondo Atom Punk. Per Atom Punk ci si riferisce in un periodo storico pre-digitale, dove a sostituire i transistor applicati all'informatica vi è invece l'energia atomica. In questo universo, insomma, lo spionaggio della Prima Guerra Fredda, insieme alla paranoia anticomunista e del Red Scare negli Stati Uniti, ha preso il sopravvento su ogni cosa. Inoltre, per spiegare gli esempi architettonici presenti in Fallout, dobbiamo considerare che il tipico stile Googie esemplificava lo spirito di quelle generazioni entusiaste davanti alla prospettiva di un futuro brillante, appunto con la ricrescita economica dopo la Seconda Guerra Mondiale, grazie alle nuove scoperte in diversi campi, tra cui ovviamente quello della corsa alla colonizzazione spaziale. Il mondo di Fallout non era un mondo cupo e triste, come molti potrebbero pensare, ancorato alla tradizionalità e al vintage, proprio perché noi associamo la felicità all'innovazione informatica, al possesso di smartphone, di auto elettriche, dispositivi high-tech e quant'altro. Era invece un universo estremamente ricco, proteso verso il futuro e ottimista nei confronti dei progressi tecnologici, che però ha subito un'evoluzione diversa dal nostro e ha mantenuto quasi invariati gli esempi architettonici ed artistici, seppur evolvendosi invece in alcuni specifici settori, quelli considerati i più importanti per la società dell'epoca. Alcune automobili, oltre a quelle che disponevano di serbatoie a benzina, diesel, GPL e vapore, pur conservando un design classico, erano dotate anche di mini reattori a fusione interni, alimentati da nuclei di fusione molto pratici e questo spiega anche alcune mini esplosioni atomiche quando un'auto su fallout verrà distrutta. Si trattava di energia quasi illimitata, se pensiamo che i nuclei di fusione generavano un'energia enorme e garantivano un'autonomia estremamente superiore alle nostre auto a benzina, diesel o GPL. Ovviamente non tutte le automobili disponevano di un sistema a propulsione nucleare e dunque risulterà molto difficile capire nel mondo post-apocalittico se si possa o meno riparare un'auto e riutilizzarla solo ad energia nucleare, data la scarsità estrema di ogni forma di combustibile fossile. Un altro settore estremamente evoluto nell'America prebellica era ovviamente quello robotico già citato. Nel 2037 sappiamo che venne prodotto il famoso prototipo di Mr. Andy e ben presto tutte le famiglie divennero desiderose di acquistare tale robot, un'automa a tutto fare intelligente capace di portare a spasso il cane, potare siepi, prendersi cura dei bambini e cucinare. Ovviamente solo i più benestanti potevano permettersi una cucina totalmente robotizzata oppure un Protektron a guardia della propria abitazione e della propria persona. E per far capire quanto fosse evoluta in questo settore l'industria robotica americana basta guardare gli esempi degli ibot o dei vertibot, dei veri e propri droni moderni capaci di trasmettere dei segnali acustici e di trasportare merci presso qualsiasi luogo. Oltre a loro erano anche in fase di progettazione per un mercato mondiale i famosi cerebrobot o anche chiamati robocervello. Si trattava di robot a tutti gli effetti ma i loro ricordi e programmi erano memorizzati all'interno di un cervello organico o parzialmente organico di un essere umano contenuto in un guscio di vetro o a cupola. Sostanzialmente una cura definitiva per la morte e la decomposizione di muscoli e organi interni. Infine solo i più alti vertici militari potevano ambire al possesso di sofisticate armi laser o al plasma, robot militari al proprio servizio come Assalton o Mr. Guzzi, armature atomiche personali e strumenti in grado di mimetizzarsi come ad esempio il famoso Stealth Boy oppure delle vere e proprie armi di distruzione di massa come ad esempio bombe atomiche e i Liberty Prime, il robot più forte al mondo mai creato capace di lanciare delle mini nuke in qualsiasi direzione e in grado di polverizzare i nemici con il suo sguardo laser. Anche la tecnologia adoperata da Mr. House nella sua Vegas capace di bloccare tutti i missili atomici provenienti dalla Cina era un chiaro segno che la società dell'epoca era molto evoluta in qualsiasi settore tecnologico, a maggior ragione in quello bellico. Anche i fumetti e la narrativa presente in Fallout ci faranno rendere conto presto del clima di entusiasmo e di fiducia nel futuro e nel miglioramento soprattutto tecnologico della società. Ritroveremo infatti soprattutto fumetti di supereroi muscolosi, potenti a cui tutti vorranno presto ispirarsi, compresi alcuni racconti di fantascienza a tema alieno, tra i più famosi ovviamente quelli della grande azienda della UBIS Comics. Seppur le mode si siano discostate molto poco rispetto al passato nell'America prebellica di Fallout, le industrie belliche, siderurgiche, tecnologiche e petrolchimiche crescevano a ritmi smisurati e proprio grazie alla scoperta del transistor nel 2023 la robotica poteva emergere come nuovo ed inedito settore inesplorato. Non dobbiamo farci ingannare infatti dalla presenza di pochi isolati computer o terminali, poiché nel mondo di Fallout internet era in realtà sviluppato, dato che troveremo spesso messaggi in codice e lettere provenienti da altri terminali e ciò sta a significare che un certo tipo di comunicazione a distanza era ormai utilizzata frequentemente, oltre alle onde radio e al segnale televisivo che erano ovviamente presenti. Inoltre ci sono numerose testimonianze di super computer intelligenti in grado di memorizzare intere personalità umane e milioni di libri di testo e capaci di prendere decisioni indipendenti all'interno di Vault e di società. Infine, anche l'industria spaziale era estremamente evoluta nell'America prebellica. Carbell fu il primo cosmonauta ad andare in orbita già nel lontano 1961, anticipando le mosse sovietiche e cinesi. Eppure, a differenza del nostro universo, gli Stati Uniti continuarono ad inviare astronauti sul suolo lunare fino al 2052, anno in cui si scoprì che le riserve petrolifere statunitensi e messicane erano ormai al collasso, motivo per cui molto probabilmente si abbandonò il progetto di colonizzazione spaziale, durato quasi secolo. Tutto questo ci porta ad un grande interrogativo secondario. Cosa si nasconde sulla luna di Fallout? Inoltre abbiamo anche la conoscenza della stazione spaziale statunitense, più o meno simile alla ISS di oggi, sulla quale si svolgevano strani esperimenti come ad esempio quello che riguardava l'astronauta miracolosamente sopravvissuta allo schianto Sophia Daguerre, legato ad una fase di ibernazione in alcune capsule chiamate capsule del sonno profondo. Infine, riferendoci sempre al campo dell'informatica e della robotica, nell'America prebellica di Fallout era diffusa, seppur a livello sperimentale, anche la realtà virtuale. Ne abbiamo testimonianza ad esempio con il Volt 112 in Fallout 3. Il bunker in questione aveva lo scopo di testare la tecnologia della realtà virtuale, inventata dall'esercito americano, per addestrare i soldati e venne prima testata su tutti i residenti del Volt come un grande esperimento. Oltre a ciò, anche nel Volt 111 su Fallout 4 erano stati effettuati esperimenti di criogenia applicata, che per nostra fortuna ebbero poi il successo sperato sul personaggio che interpreteremo nel gioco, a dimostrazione del fatto che questi non erano solo esperimenti iniziali, ma erano ormai ben collaudati e quasi prossimi al commercio internazionale. L'industria della robotica spaziale e informatica erano dunque in costante evoluzione, ma anche quella medica aveva fatto passi da gigante rispetto agli anni del dopoguerra. Nel 2002 fu fondata la potente Westec, poi acquisita dal governo Enclave negli ultimi anni della guerra per produrre i super soldati destinati al fronte grazie all'utilizzo del VEF. La manipolazione genetica, attraverso lo studio del DNA umano e alla sua riformulazione, divenne una prerogativa fissa di questa importante azienda americana, che si dedicò alle ricerche per quasi un secolo. La scoperta della manipolazione genetica fu di essenziale aiuto durante le ricerche per configgere la cosiddetta nuova piaga, comparsa negli Stati Uniti nel 2052. Anche se la sua origine era sconosciuta, si diffuse presso l'idea di un rilascio accidentale nella popolazione in seguito alla fuoriuscita di alcune fiale di un virus mortale da un laboratorio di Denver, a causa di un combattimento tra alcune spie cinesi e forze speciali statunitensi. Ben presto, quindi, il VEF, ovvero il virus a evoluzione forzata, fu utilizzato come una vera e propria cura per la nuova malattia. Tale liquido verde permetteva infatti una vera e propria mutazione del genoma umano, attraverso lo sdoppiamento del DNA a doppia elica, il che permetteva più resistenza ad ogni malattia per tutti gli organismi ad esso esposti. Ma l'industria medica non si esauriva certo qui. La sua collaborazione con la Robco e la General Atomics, i due colossi della robotica americana, permisero la creazione di dispositivi di cura automatizzati, autoalimentazione, creazione dei già citati cerebrobot e quant'altro. L'America di Fallout fu, per moltissimi anni, una superpotenza enorme, in grado di organizzare viaggi interplanetari, armi sofisticatissime, veicoli alimentati a celle di fusione nucleare, cure mediche e modifiche del genoma umano al limite della nostra comprensione. Insomma, nell'America di Fallout potremmo dire che il modello di pensiero neopositivista, affermatosi cioè a metà degli anni venti del novecento, con lo scopo di diffondere una visione scientifica del mondo, unificando l'intera conoscenza umana grazie alle scienze empiriche, diventerà il modello prevalente e durerà più di un secolo. Il richiamo del movimento è ovviamente al positivismo ottocentesco e alla sua tesi del ruolo privilegiato ricoperto dalle scienze sperimentali nel processo di acquisizione della conoscenza, nonché ovviamente alle sue istanze anti-metafisiche. Non per niente, a ben pensarci, la metafisica nell'America prebellica avrà ben poca importanza. Nasceranno pochi e sporadici culti settari e la maggior parte di quelli che conosciamo sorgeranno a causa della guerra, diversi anni e secoli dopo, nati appunto per spiegare e per porsi delle risposte al fallimento della società umana, come ad esempio il culto dell'atomo visto come un ciclo inevitabile di inizio e di fine vita che la scienza non riusciva a spiegare. Dunque la fiducia continua nel progresso scientifico non lascerà posto a correnti filosofiche nuove e in contrapposizioni, come appunto l'esistenzialismo o la fenomenologia. E così, influenzato nettamente dai progressi scientifici e dalla fiducia verso il futuro, anche lo stile di vita americano e le sue mode, che noi immaginiamo erroneamente essere ferme ed in declino, in realtà ci dicono tutt'altro. C'era così tanto benessere, così tanta fiducia nella scienza, che le mode, come ad esempio quella musicale, non avevano bisogno di ricercare qualcosa di troppo diverso, poiché quella era considerata la massima espressione musicale. O per meglio dire, la sperimentazione musicale c'era, certamente, ma non avrebbe mai e poi mai potuto eguagliare i grandi classici, che avevano avuto il merito di risvegliare dagli anni più bui della storia degli Stati Uniti, ovvero gli anni 30 del 900, con la famosa crisi del 1929, da cui erano partite le grandi scoperte poi nel campo della tecnologia. In essi possiamo ben comprendere come il tema della civilizzazione in Civilization, dell'esplorazione in Wanderer, della bella vita e nel Let's Go Sunning, erano centrali nello stile di vita positivo e rivolto al futuro degli americani. Ovviamente non potevano mancare, nei grandi classici della società americana, canzoni che si ponevano anche domande sul futuro, in particolare sulle conseguenze di una ipotetica guerra atomica, argomento che, ricordiamo, era ormai all'ordine del giorno, dato che l'aumento esponenziale della produzione atomica e bellica era considerata l'unica via per il miglioramento del benessere sociale di ogni cittadino americano e per la difesa appunto da potenziali minacce, secondo il cosiddetto paradosso della sicurezza. Io sono più sicuro se mi armo, ma il mio nemico sarà più sicuro se si armerà a sua volta perché non saprà cosa voglio fare con le armi che ho a disposizione. Canzoni come I don't want to set the world on fire, maybe, it's all over, evidenziano queste paure, queste ansie, ma il fatto che esse fossero ormai così famose era anche il segno che l'America e gli americani stessi avevano imparato a convivere con questa minaccia continua, esorcizzando la suon di musica oppure sbeffeggiandola, come chi per divertirsi gioca col fuoco e non capisce che potrebbe in realtà scottarsi. Inoltre un altro motivo molto probabile delle poche canzoni a nostra disposizione su Fallout, tra cui la maggior parte molto antiche, potrebbe sfiegarsi con altri due esempi. Anzitutto produrre canzoni era difficile e costoso a causa della mancata scoperta dei CD-ROM ed inoltre la musica molto probabilmente era diventato un settore di nicchia vintage, simile alla nostra musica classica, riprodotta ancora oggi per le grandi occasioni, ma quasi ferma a livello di produzione. In ogni caso però, nonostante tutti i condizionamenti sulla inedita moda e sulla cultura prebellica che si sono sviluppate nell'universo di Fallout, provenienti direttamente dai gusti e dagli stili della cosiddetta società del benessere, derivante appunto dallo spirito degli anni ruggenti americani, qualcosa nel motore americano stava iniziando ad incepparsi, come un qualsiasi ciclo ha un inizio ed ha una fine. Non dobbiamo immaginare infatti che da un momento all'altro i cittadini iniziarono a temere le conseguenze di una guerra atomica poiché tutti in realtà erano ben consci di quello che sarebbe prima o poi potuto accadere, ma la trasformazione della società americana inizierà a manifestarsi per gradi, a causa di due diversi eventi verificatosi all'interno dell'universo di Fallout quasi contemporaneamente. Il primo fu la devastante crisi petrolifera in Texas, scoperta nel 2051 grazie ad un documentario e mostrata in tv davanti a milioni di telespettatori increduli. Il secondo fu la dispersione accidentale del virus della nuova piaga a Denver solo un anno dopo, che gettò nel panico gran parte della popolazione americana. Non appena le due notizie iniziarono a circolare in tutti gli Stati Uniti, la popolazione fu colta da panico generale e soprattutto da una crescente preoccupazione e antipatia verso il governo americano. Dalla metà degli anni 50 fino alla Grande Guerra, la società statunitense assistette ad un declino sempre maggiore dal punto di vista economico, seppur fosse notevolmente in crescita dal punto di vista demografico, con più di 400 milioni di cittadini all'attivo. Per evitare un collasso generale del benessere collettivo americano, molte informazioni furono insabbiate dal governo. Molti oppositori politici alle riforme statunitensi furono arrestati e accusati di essere pagati dai governi comunisti cinese e sovietico per destabilizzare gli Stati Uniti. La società americana, il suo stile di vita apparentemente libero e benestante, dovevano essere conservati e preservati ad ogni costo. Ecco perché anche in questi anni burrascosi il governo americano incentivò le aziende a continuare la loro produzione, mentre quelle impossibilitate a farlo furono acquisite forzatamente e costrette a lavorare sotto la loro guida. La Nuka Cola, uno dei marchi più famosi, autrice della bibita più consumata dagli americani, creò in questi anni nuovi parchi divertimento a tema, nonostante una serie di problematiche piuttosto serie ai suoi impianti, come ad esempio una fusione nucleare alla centrale che alimentava il loro più grande parco divertimenti, notizia però insabbiata dalla stessa società. Nel 2065 è un'altra grave crisi, un reattore nucleare a New York va in supercritico e causa un blackout generale di lunga durata. Un anno dopo, come se non bastasse, a partire da Denver, luogo dell'epidemia, le rivolte continuano a causa della scarsità di cibo, che ben presto si allargerà a tutto l'occidente americano. Nel frattempo, dall'inizio degli anni 60 nel resto del mondo il traffico su strada aveva iniziato a rallentare sempre più, fino a fermarsi. Il carburante diventa infatti troppo prezioso da sprecare per le automobili e viene destinato solo ai veicoli commerciali e industriali. Anche negli Stati Uniti, già a difesa delle sue riserve petrolifere in Alaska, la crisi inizia a farsi sentire e il governo spingerà moltissimo per lo sviluppo di energia alternativa, in particolare per le auto elettriche e le macchine a fusione, all'epoca soltanto dei prototipi. Tuttavia il processo di costruzione rimase molto limitato e le fabbriche produssero solo quantità limitate di veicoli di questo tipo prima dello sgancio delle bombe. Ricordiamo infatti che le risorse impiegate nella guerra sinoamericana e nell'annessione del Canada portarono via ingenti somme di denaro agli Stati Uniti e gran parte delle produzioni si arrestarono o subirono una drastica riduzione. L'economia americana era infatti vicina alla bancarotta e così aumentarono sempre più le pressioni sulla ricerca per una nuova forma di fusione nucleare sicura, che porterà nel tempo all'utilizzo sempre più costante delle sole celle e dei nuclei di fusione per alimentare qualsiasi cosa, dalle auto ai robot fino agli edifici, avendone a disposizione una grossa quantità. Non soddisfatti e alla disperata ricerca di forme di energia sempre maggiore, gli Stati Uniti alla fine degli anni 60 si trovavano ormai alle strette, anche a causa del prosciugarsi delle risorse per la guerra sinoamericana. Fu così che si corse necessariamente ai ripari. Le grandi industrie montane come ad esempio Yornwhite e altre ditte in parte controllate dal governo americano cercheranno negli anni precedenti alla guerra nuove vie per scovare nuovi pozzi petroliferi, giacimenti di gas naturale, uranio o l'innovativa Ultracite, la quale venne utilizzata soprattutto negli anni finali della guerra e che se compressa dava vita a un carburante molto potente, utile per alimentare carri armati, armature atomiche e per produrre munizioni per l'esercito ancora più potenti di prima. Furono subito identificati due luoghi di trivellazione nazionale importanti, ad ovest il Grand Canyon che perse il suo status di parco naturale e turistico e ad est le montagne appalacchiane. Grazie all'enorme quantità di ordini bellici atomici con l'ausilio di alcune trivele giganti come la famosa trivella madre della grande industria dei Yornwhite iniziarono in segreto complessi scavi profondi. Il risultato, come si può intuire, fu devastante. Terremoti, uccisioni di flora e fauna sotterranea, rilascio di radiazioni continue ed ezodi di massa si verificarono in queste zone, la cui popolazione non riusciva a comprendere cosa stesse effettivamente accadendo nel sottosuolo. Come ho già spiegato in un precedente video sulla lore di Fallout 76, la scelta di utilizzare la bomba atomica era forse un azzardo, ma dobbiamo calarci nella mentalità dell'epoca. Si trattava di una soluzione rapida, senza eccessive perdite umane e senza troppo utilizzo di mano d'opera, al fine di rifornire più velocemente l'esercito al fronte e di risollevare la già devastata economia americana. Per alcuni anni Ultracite e Uranio furono regolarmente estratti da questi giacimenti sotterranei, eppure a distruggere il sogno di rinascita economica statunitense fu proprio la conclusione della Grande Guerra. Nel 2070 sappiamo che verrà messa in commercio la versione definitiva delle auto a fusione, firmata Chryslos Motors. Tuttavia, a causa dei modelli limitati e del prezzo elevato, andranno esauriti in pochi giorni. Poco tempo dopo, a causa delle pressioni governative legate all'andamento incerto della guerra al fronte, verrà presa una decisione drastica. Molti impianti della Chryslos verranno convertiti in fabbriche belliche e la produzione delle auto a fusione cesserà. Fu anche e soprattutto in questi anni che i Commonwealth statunitensi si concentreranno quasi esclusivamente sull'installazione di armi nucleari segrete in diversi luoghi americani, come ad esempio i Silos automatizzati in Appalachia. Nel frattempo, anche il colosso industriale della Voltec, società sotto contratto del governo degli Stati Uniti, continuava incessantemente la costruzione di rifugi sotterranei segreti per scampare alla potenziale minaccia nucleare. Un'opzione sempre più plausibile, dato che la guerra sinoamericana peggiorava sempre più, in seguito alle crescenti richieste di combustibili fossili americani dalla controparte cinese. Inoltre, come se non bastasse, la crescente richiesta da parte degli Stati Uniti di risorse canadesi provocò ben presto proteste e rivolte in molte città, compreso un tentativo di sabotaggio del gasdotto americano che dall'Alaska si recava verso sud. Viste queste pressioni e intimidazioni, i militari statunitensi furono incaricati dal governo di finalizzare l'annessione del Canada, che era già iniziata nel 2067 con l'invio a nord delle truppe per prepararsi ad un'eventuale invasione cinese. Nel 2076, solo un anno prima delle bombe, l'annessione sarà completata e il Canada diventerà un nuovo Commonwealth statunitense. La tecnologia atomica americana, secondo quanto riportato nelle note della riserva in Van Buren, sembrava inoltre essere veramente all'avanguardia nell'ultimo periodo prebellico. Infatti, sappiamo che vennero completati degli speciali missili chiamati BOMB, la cui particolarità si basava sul loro invio a diversi centri spaziali negli Stati Uniti, per poter essere poi trasportati direttamente nello spazio e installati nei satelliti BOMB, in maniera tale da poter essere lanciati direttamente dall'orbita bassa terrestre. Un chiaro segno che la tecnologia americana, ancora una volta in questo campo, aveva compiuto passi al gigante e che molto probabilmente era anche un passo avanti rispetto al nemico comunista. Ciò potrebbe farci riflettere su una questione. Se l'America post-bellica è ridotta ad un cumulo di macerie e radiazioni, l'Asia comunista potrebbe essere stata bombardata il doppio e ancora più pesantemente. Tuttavia, a mettere in allerta i servizi segreti degli Stati Uniti, fu una comunicazione datata il 17 dicembre 2075, girata poi al governo americano, secondo cui la tecnologia stealth cinese supererebbe di gran lunga quella degli Stati Uniti. Inoltre, una flotta di sottomarini non meglio identificati fu individuata dalle stazioni di monitoraggio statunitensi che l'avrebbe identificata come la cosiddetta flotta fantasma cinese, cioè un'unità navale d'elite che si dice possedesse sottomarini capaci di diventare invisibili. Una data forse cruciale che spesso si tende però a sottovalutare sarà il 24 giugno 2074, data in cui ogni potenziale colloquio di pace si sgretolerà definitivamente. Durante i negoziati tra gli Stati Uniti e le altre potenze mondiali, infatti, si giungerà ad una fine drammatica. Il presidente americano, dinanzi alle forti pretese internazionali, abbandona i colloqui petroliferi dopo un dibattito molto acceso e dichiara che le ultime forniture petrolifere saranno utilizzate esclusivamente dagli Stati Uniti e che questi ultimi non venderanno o scambieranno petrolio a paesi terzi. Il mondo andava verso una guerra sempre più inevitabile e la soluzione finale, l'arma atomica, sarebbe stata solo l'ultima tessera del domino a cadere. Si trattava ormai solo di questione di tempo, ma l'escalation era già iniziata. In questo clima di intolleranza, di scontri internazionali, di guerra al fronte, di rivolte civili e di diminuzione del benessere collettivo, nonostante tutti gli sforzi del governo in clave per nascondere ai cittadini quanto più possibile ogni notizia negativa in perfetto stile totalitario novecentesco, qualcosa inizierà a cambiare all'interno della società americana. Non furono poche infatti le organizzazioni clandestine che iniziarono a formarsi su tutto il suolo statunitense, dagli stati liberi nelle montagne palachiane che combattevano il governo corrotto e costruivano i propri bunker, fino alle comunità di mormoni in tutta la West Coast che cercarono di assicurarsi un posto al sicuro per far progredire la propria comunità in caso di disastro nucleare, compresi anche alcuni sottogruppi di spie cinesi infiltrate nella società americana che cercarono di destabilizzare il governo centrale tramite propaganda occulta, furto di documenti top secret e operazioni di sabotaggio industriale. Gli Stati Uniti nel periodo prebellico erano dunque una potentissima nazione sotto ogni punto di vista, da quello militare a quello medico fino a quello robotico, capaci di mobilitare un enorme numero di truppe in brevissimo tempo e allo stesso tempo capaci anche di installare ordini atomici letali non solo sul proprio territorio ma anche in orbita. Si trattava però di una società molto fragile internamente, anche se immensamente ricca. Il più grande errore degli Stati Uniti prebellici, come del resto di tutte le altre nazioni conosciute, fu l'utilizzo continuo e unico di combustibili fossili per secoli, fino ovviamente al loro esaurimento, senza però ricercare nuove risorse naturali prima che la situazione degenerasse definitivamente. Gli Stati Uniti inoltre non erano quella democrazia all'avanguardia per cui ancora oggi per certi aspetti vengono ancora ricordati, ma uno stato distopico semitotalitario che rifiutava l'arma del dialogo nei confronti delle altre potenze a favore invece della minaccia nucleare e dell'isolazionismo politico. La sceleratezza dei politici americani nell'insistere su una guerra di logoramento, basata sostanzialmente su una risorsa che nel breve termine sarebbe presto finita, senza la benché minima possibilità di attuare un piano B che trascinasse il paese fuori dalla guerra sano e salvo, furono i principali artefici dello scoppio delle bombe. Queste scelte scelerate ripercorrono infatti le due precedenti guerre mondiali anche nell'universo di Fallout che scoppiarono per scommesse fallite, decisioni scelerate e fanatismo bellico. L'uomo, nell'universo di Fallout, non è riuscito a imparare dai propri eroi ed è stato condannato all'estinzione e alla distruzione di tutto ciò che di buono era stato costruito nel tempo. Ed è proprio questa la lezione più importante che l'immensa saga di Fallout ci insegna, che la guerra, in fondo, non cambia mai. Grazie a tutti per aver visto il video fino alla fine, vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like se il video vi è piaciuto e a seguirmi sui miei social che trovate qui sotto in descrizione. Vi do appuntamento ad un prossimo video e vi saluto, cari abitanti del Volt.